Isidoro Valenti, in grosso e dettaglio di frutta e verdura. Si effettuano forniture per menze, comunità, alberghi, ristoranti, supermercati. Tutti i giorni arrivi di frutta sempre fresca e selezionata con distribuzione immediata. Ci trovate a Terrasini nelle nostre due sedi, in grosso in via Partinico 70 e vendita al dettaglio in via Padre Cataldo numero 157. Vi aspettiamo!